Ha visto il professor De Lucia, la Cina inventa la città più grande del mondo, la megalopoli avrà 42 milioni di abitanti, 29 linee ferroviarie ad alta velocità, collegamenti con Hong Kong, altro che noi, no? Noi è un problema che non ci riguarda, perché noi non dobbiamo, per nostra fortuna devo dire, costruire nuove città, per noi intendo tutta l'Europa, l'Europa occidentale, come si diceva una volta, noi abbiamo un problema di gestire le città che abbiamo, che hanno problemi di crescita molto limitati, il problema è farle funzionare, questa è la sfida che noi abbiamo davanti e questa è anche la differenza con i problemi del terzo mondo. No, è che prende sempre lo scoramento, uno dice mai sono agli altri, ormai sono lanciati verso un futuro che sarà chissà come, noi siamo ancora qui a chiudere le città perché c'è lo smog. Eh sì, noi abbiamo ritardi enormi su tanti piani. Non solo che lo chiedo lei, perché lei è un grande urbanista, però lei è stato al Ministero dei Lavori Pubblici, è stato assessore nella prima giunta a Bassolino a Napoli, insomma, quindi ha toccato con mano diverse realtà, insomma, no? Sì, io credo che appunto i problemi della mobilità e dell'accessibilità sia il problema più vistoso col quale oggi ci misuriamo e devo dire anche quello più trascurato, c'è un dato forse non recentissimo, però mi pare significativo, che a Roma per ogni bambino che nasce, si immatricolano otto automobili, questo è stato spaventoso, questo dà l'idea di quanto siano drammatici i problemi che abbiamo, soprattutto dal punto di vista dell'uso sconsiderato dell'automobile, cioè l'unica risposta, o meglio la risposta più praticata al problema dell'accessibilità del traffico è quello individuale, quello dell'automobile. Però lei mi faceva osservare prima una cosa interessante, che le città si sono svuotate di alcune funzioni fondamentali e hanno determinato… Sì, 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 questo è uno dei guai, perché per esempio a Roma, ma in quasi tutti, a Milano sicuramente, in tutte le grandi città italiane, che succede che gli abitanti si allontanano dalle aree centrali, prima si sono allontanati dal centro storico, a Roma, poi dalle aree dentro la centura ferroviaria, poi dalle aree interne al grande raccordo anurale e vanno o in estreme periferie o nei comuni limitrofi. Per dirla con uno slogan, il modello attuale della città è lavoro dentro, abitanti fuori. E si continua a esasperarlo questa divergenza e finché si continua così il problema del traffico diventa irrisolvibile. Andiamo a Napoli con Francesca Chiglini, prego.